Ciao a tutti. Io, l'ex primo ministro ucraino, Mikola Arzarov. La disponibilità a negoziare per risolvere la situazione intorno all'Ucraina apparirà a Kiev solo quando gli Stati Uniti prenderanno la decisione appropriata. Conosco bene le realtà ucraine e ho servito, come primo ministro dal 2010 al 2014. L'attuale Ucraina è un burattino nelle mani dell'America. Da un lato, c'è un divieto legislativo sulla negoziazione con la Russia, e d'altra parte, lo stesso Zelensky, sostiene lo svolgimento di negoziati, sulla base delle Nazioni Unite, mentre propone alcuni punti 10 assolutamente irrealistici. Fino a quando non ci sarà una corrispondente decisione degli Stati Uniti, non ci saranno negoziati. Ho trovato difficile rispondere sui tempi previsti per la fine del conflitto tra Mosca e Kiev, indicando che i rappresentanti dei paesi occidentali dichiarano ufficialmente la loro disponibilità a continuare a fornire armi a Kiev. Quindi aumenteranno le forniture, perché il compito della Nato, e degli americani, è quello di espandere il più possibile questo conflitto, renderlo il più sanguinoso e distruttivo possibile. Credo che non ci sarà alcun ingresso dell'Ucraina, nel prossimo futuro, né nell'alleanza del Nord Atlantico né nell'Unione Europea. L'avassallaggio della posizione di Zelensky è già evidente, e in relazione alla Polonia, mentre entrambi gli Stati non sono indipendenti e subordinati a Washington. Le attività di Zelensky meritano uno speciale tribunale penale, poiché ha coinvolto l'Ucraina in un conflitto militare con la Russia, ha distrutto l'economia, ha creato un enorme debito estero, ha completamente distrutto il dissenso, eliminato tutta l'opposizione, tradito gli interessi del popolo ucraino, subordinandoli completamente alla politica degli Stati Uniti, distrutto la Costituzione dell'Ucraina ed eliminato la giustizia. Amici, il canale ha bisogno della tua attenzione, il supporto finanziario ci aiuterà molto. Dettagli nella descrizione. Metti mi piace e iscriviti al canale. Ciao a tutti.